buongiorno e buon martedì allora pollicione se volete iscrivervi vi ringrazio attivate la campanina per ricevere le notifiche e ringrazio tutti quelli che condividono commento ne sostengono questo canale bene oggi ci dovrebbero essere l'elaborazione di metà mese se volete comparire avvisate me avvisate elena avvisate radio vucci avvisate mister lull avvisate tutti i canali che seguite di cui vi fidate che ci sono l'elaborazione sperando che vadano un po meglio di quelle del mese scorso che sono state un caos caos che poi si è replicato con le lavorazioni e le ricariche ordinarie altro caos allucinante dalle 18 ore necessarie per fare le lavorazioni ai pagamenti letteralmente spalmati sul 56 giorni come se la gente campasse d'aria ma ve l'ho detto io la sensazione di fini impero ce l'ho per cui nel momento in cui si sa che questa misura va in briciole qui c'è gente che sta letteralmente facendo i cazzi suoi non riesce a gestire le cose non riesce a sistemare e aveva ragione bobby a dire qui ci sono anche problemi anche di gestione dei fondi però i fondi da gestire cioè i percettori sono sempre meno quindi teoricamente dovrebbe essere più facile gestire le cose invece chissà perché più si va avanti peggio le gestiscono comunque ricordatevi questi riguardano i nuovi percettori e rinnovati e che attende gli arretrati spero che vada tutto bene che stasera facciano tutto e che per il 15 sia tutto a posto sarebbe comunque un segnale di un po più di stabilità che già la situazione è instabile di per sé e almeno non eccedano in questo in questa in questa pressione verso le persone in difficoltà poi in merito a quello che mi avete scritto ieri per carità detto io non riesco ancora a darmi una una definizione netta di quello che avete sentito o avete percepito semplicemente perché ve l'ho detto quella norma è scritta veramente male è scritta veramente male con il risultato che si presta a interpretazioni si presta a fallacce logiche e si presta appunto anche eventuali cause come quella che il 29 l'inps dovrà affrontare in merito alle perequazioni fatte con i piedi e vedremo cosa ne verrà fuori sarò curioso anche lì di vedere cosa succederà in quella causa perché non è la prima che l'inps subisce ma è una di quelle pesanti perché se quella buca cioè se l'inps lì va sotto e ci sono buone probabilità che succeda e arriverà in una valanga in quel senso sempre contro l'istituto che tra l'altro adesso sembra che non sia più fava ma se un'altra persona una donna prendere l'erede dell'inps me frega zero di chi è possono metterci anche il cavallo di della rai ma non non me ne frega niente basta che sia una che capisca che le cose vanno fatte bene non col culo niente per il resto approfitto un attimo fatto che c'è poco di cui parlare sì ci sarebbe anche la questione delle pensioni magari ne parlo domani nel buco cioè degli aumenti delle pensioni a luglio ed agosto che in realtà non sono aumenti sono non sono aumenti straordinari ma sono cose ordinarie già inserite nelle nelle leggi e già percepite da diversi anni e non voglio neanche fare considerazioni sulla sparata sul bonus 3000 euro che riguarda semplicemente gli esercenti della zona alluvionata e non c'entra un cazzo con nessun altro approfitto prendo due minuti perché ieri è morto anche francesco nuti purtroppo bene la notizia principale ha soverchiato questa cosa io l'ho saputo dal qn e ringrazio fausto che mi ha avvisato il moto francesco nuti attore regista sfortunatissimo 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 con talento forse un po troppo accecato dal suo talento ma per carità non è il primo che però ha avuto in sorte disavventure terribili che non dovrebbe subire e tra l'altro tritato anche dalla macchina dalla macchina produttiva del cinema probabilmente inutino l'aveva gli amici giusti diciamola così perché è vero occhio pinocchio era una boiata ma se devo confrontare quel film con quello che ha fatto benigni quello la sembra veramente un capolavoro quello di benigni è un colatore fognario però benigni e benigni allora gli si passa dentro tutto invece a anuti quella quel fallimento è costato carissimo è costato uno stato depressivo pesantissimo che l'ha portato vabbè l'altra situazione poi questa situazione ha portato anche arresto tanto applausi tanti applausi ad esempio il fatto che il cinema l'abbia ostracizzato in modo in vera e condo ma continua comunque fornirci per dire no boiate come i film di dario argento che va bene l'ultimo fa meno schifo degli altri perché fra più fa più schifo di cartaglio di altre cose con impresa ma lui continua a produrre questa roba non ti sbaglia un film e lo linciano perché quelli che ha fatto dopo erano mediocri argento ne sbaglia 7 8 a essere buoni e continua a produrre schifezze e ho citato argento perché dove citano un sacco ecco tipo i manetti bros e così gente che effettivamente non si capisce come cosa fa lì ma hanno gli amici giusti quindi se gli amici giusti vai avanti inutili amici giusti non ce li aveva per cui se potete recuperati sui film ma non gli ultimi due signor 15 palle altro non me lo ricordo recuperate quelli vecchi da caruso pascoschi padre polacco andatele indietro da lì recuperate anche donne con le gonne oddio che adesso se lo sentono le nazi femmine esplodono perché già al tempo lo accusarono di tutto per un titolo così porca miseria ormai si sia già alle ore si è arrivato alla a una situazione in cui attenzione a come usi le parole e tu loro le possono usare come cazzo vogliono ma tu devi stare attento come le usi perché non si sa mai si sa mai che ti arriva un altro di di quei di quegli uomini o lì inclusive con la spina dorsale di una lumaca che ti critica accusandoti di tutto ci provino adesso ho visto un video di un vecchietto che parlava ancora del signore degli agnelli degli agnelli di amazon che come flop c'è stata cleopata che l'ha superato ma alla stragrande ed ho trovato bellissimo l'intervento di una ragazza che è conterranea di mia moglie in questo senso che letteralmente traita tutto tutto quello schifo ed è difficile dargli contro perché come mia moglie ha la pelle un po più scura e che letteralmente fa tonnina di quel film quella boiata ignobile in quattro episodi come fa tonnina delle stranzate che ci sono nel signore degli anelli versione amazon che purtroppo amazon ci ha smenato dei soldi ed ora comunque mandarlo avanti perché sennò finisce tutto in un gran casino va bene scusatemi la digressione dicevo minuti purtroppo ha pagato anche la solitudine è stato abbandonato tranne i suoi amici quelli più vicini da 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 carlo conti a piraccioni a veronesi il mondo del cinema gli si è voltato letteralmente contro per un solo film perché ho detto poi ne ha fatti altri due ma non è che fossero chissà cosa quindi per quello che dico recuperate scaruso pascoschi gli occhiali oscuro a sud del paradiso non ricordo ma essere a sud del paradiso perché poi lo confondo con la roba di paperino quando l'aveva girato con i gian cattivi recuperate quelli quando nuti era in forma si sentiva forte quelli dopo occhio pinocchio non ve li consiglio perché dentro era già stato spezzato e quando comincia a soffrire dentro poi è difficile lavorare bene scusate questa digressione io vi saluto ci sentiamo più tardi per un'analisi del dopo silvio ciao a tutti